oh guarda sto perdendo pezzi per strada oddio è bellissimo vabbè si è un po' conto è oscena sa che ho vinto è bella la mia radio ma è bella ciao a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in un mio nuovo video ciao io sono Gianmarco e lei è mia cugina Giorgia la Giorgia è tornata per un nuovo video demenzialissimo stupidissimo cosa potevi fare nel mio canale oggi faremo una cosa diversa l'ho vista fare a Snitex e Lily Meraviglia ciao raga sarebbe la Pancake Challenge ok una sfida dove due persone devono disegnare con l'impasto da pancake ma è tipo la Pancake Kart praticamente si esatto io ho preparato infatti ho preparato i vari colori e non so se notate l'eleganza ma il tappo corrisponde al colore la finezza l'eleganza la finezza scicheria questo qua fa impressione abbiamo anche un computer il quale ci darà attraverso un sito random objects ci darà cliccando un oggetto e noi dobbiamo disegnarlo con questi e noi dobbiamo disegnarlo con questi dopo di che durante il video probabilmente vedrete dei sondaggi comparire per votare anche voi qual è che è il vostro preferito non so se è destra non so se è nistra non so ne ancora come si fa ma mi hanno detto che si può fare quindi voglio usare questa nuova funzione cioè voi voterete durante il video quella che è venuta meglio ragazzi siamo arrivati nella mia cucina Giorgia Quarta è tutto pronto quindi Giorgia che sarà la prima a cominciare con tutti quanti i suoi arnesi lei è in fronte è caldissima premerà su refresh e gli comparirà un oggetto che prima farà lei e poi riprodurrò io uno stereo ah vai di tridimensionalità oh certo questa è arte questa è arte prendi l'arte e mettila da parte mi darò all'ipita ho anche la parte difficile però poi girarlo sa da un po' puzza sa un po' da bruciacchiato no vedi sta sbordando va per tutto c'è delle bolle così non preoccuparti non preoccuparti a volte l'impegno nel suo viso adesso faccio io adesso faccio io aspettati delle brutte cose allora lo stereo siccome io a me non piace ripetermi a me non piace fare le cose come le ha fatte lei che po' mi stai già copiando mi stai ah beh quella è la forma non è che posso farci tanto che buon profumo vedo che hai già paura dell'arte hai paura hai paura dell'arte tanto voteranno mai e comunque e comunque il tuo è noioso non è assolutamente vero ci sono tre colori prova a tirare su te uno stereo con quel manico lì ma cosa vuol dire ma mica lo devi usare ma mica è vero Giorgia ma deve essere realistico però salvi cose tossiche tiè guarda i piagni guarda i piagni pronta perfetto è bruciato lasciamo votare le persone non influenziamo loro prego mettilo nel piatto e confrontalo con il mio raga votate Giorgia o Gianmarco Giorgia cioè guardate che accostamenti poi si vede bene il manico invece lui ha fatto questa allora intanto il mio funzionale oh 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 buon ross e già che avrà apprezzo pure a me da a destra o a sinistra non lo so adesso qua vi comparirà il sondaggio votate Gianmarco o Giorgia per il primo pancake adesso passiamo al secondo Giorgia Giorgia eh beh eh certo allora dobbiamo fare una finestra devo fare una finestra devo fare una finestra molto bene molto bene molto bene vedi sei già nel palco no no ci sono io non l'ho fatto prima di te ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono ma che è già cotto praticamente non ti stavo riacciparando non pensarci non pensarci ecco queste qua sono te l'ho detto che non bastava ecco no no ce n'è ancora ce n'è ancora non è finita la festa la festa presto 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 è tutto bruciato chiudiamo i buchi è inquietante secondo me non saprò una finestra e cosa sembra un garage vorrei girarlo perché sarà tutto bruciato secondo me però non so in che maniera girarlo ecco il maestro ragazzi ecco il maestro oh guarda sta perdendo pezzi per strada oddio è bellissimo è qualcosa di terribile ma no guarda basta fare un po' così non vale non vale mi sapevo no vuoi vedere veramente adesso il tocco proprio finale chiudere finestre oh è mattina apriamo le finestre si è fortunato che non si sono appiccicati c'è una cosa uscita da stranger things cioè come colorata mi esprimo cotto è servito è mangiato tutto quello che c'è giorgia è il tuo turno è che torna ok c'è Antonella Clerici che alla prova del cuoco è sconvolta dopo aver visto questo video l'Antonella ti fa per me c'è Barbara D'Urso che vuole invitarmi ma cos'è ma cos'è non c'è più roba no eccoci ce la posso fare tu pensi di vincere ma inconsciamente sai che vincerò io ma no guardate la sporcizia cioè guardate è proprio un casino questa finale guarda che il casino l'hai fatto tu ma no io ho fatto una cosa bella cacchio notare la posizione il posizionamento quello dei veri artisti certo caro mio perché io vinco e tu perdi e dopo ci facciamo anche un po' di erba oh Maria mi sa che ti sei ucciso con questa roba qua sai mi sa che vingo io con la finestra di Stranger Things mi sa proprio di sì tra l'altro guarda ma cos'è sta roba raga aiuta e adesso taglio l'erba fai eh il giardiniero fa cagare è un scena Giorgia mi dispiace allora raga è arrivato questa è la mia e questa è quella di Gianmarco questa è la mia e questa è quella di Gianmarco votate 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 ma Giorgia c'è il tuo momento una borsa Chanel decreterà una Chanel decreterà il vincitore il vero vincitore chi lo sarà allora no guardate la posizione sto male raga va fuori dalla pentola sono dimenticata di fare il gioiellino ecco rovinata rovinata sbagliato nooooo ha perso perché l'ho sabotata raga e allora la farò rossa così resti senza anche rosso ce la siamo giocata completamente è disperata guardate sta facendo una forza grandezza naturale ma guarda che non la puoi indossare dopo eh sono stare ho capito ah no vabbè siamo un po' cotta è o scena sa che ho vinto che è sta roba dove l'ho vinto ho fatto che prendo no no oddio ha rotto tutto ho fatto una borsa grande ecco rifetta diciamo che non avevo in mente proprio così sembrano tutte per toalette prontissimo fatti da parte che ti imbatto ok allora la borsa la borsa la borsa va 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 io partirò da un dettaglio che lei ha veramente sottovalutato il gioiello perché non so se guarda guarda qua guarda qua qua c'è il gioiello qua c'è il gioiello già mi perdi mi dispiace allora io la spengo perché sarà caldissima sta roba comunque farò il gioiello perfetto fa già schifo anche questo perfetto è venuto benissimo proprio come lo volevo oddio non c'è più rosso George farla di 25 colori almeno la mia è nera e rossa no no forse ce la faccio forse ce la faccio non è possibile che ce la fai non è giusto oddio mi sa che anche la Chanel è carina perché non è rosso è raro oddio oddio sta finendo sta finendo no in tutto questo vorrei sottolineare che sta ancora cucinando il manico leggerà chi lo sa non lo so chi vivrà vedrà è bellissima bellissima hai fatto un errore madornale cioè hai fatto una borsa con un manico solo no 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 parità parità mi sa mi sa che qui a vincere non è la Georgia ma è la mia Chanel favolosa io sono molto orgoglioso cioè ok raga adesso parte il sondaggio votate qua in alto questa è la mia questa è la mia no questa qua è la mia e l'hanno vista tutti quanti questa qua con la schifezza che ha fatto la Georgia votate 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 e tra i tre potremo decretare il vincettore alla fine adesso onestamente però io vinco solo per questo è tutto per oggi ragazzi cioè questa qua è la nostra sfida finale dei nostri migliori io ho scelto la mia borsa Chanel che è venuta bellissima Georgia ha scelto la sua radio è bella la mia radio non è bella è sempre un momento orsetta così buttato gratis se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su fateci sapere nei commenti chi scegliete voi tra queste due nostre opere la fasce la fasceglieranno mai per pietà questo non riproduce ma con la musica si sveglia la sentia è letteralmente scontata la sedia vogliamo farla oh signor oh mio dio no raga non ci credo è tutta aperta fateci sapere quindi nei commenti chi ha vinto secondo voi secondo me se vi va potete seguire Georgia nei suoi social network instagram gilime make up se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale esce un nuovo video ogni martedì alle 15 ogni sabato alle 10 e 30 ogni tutto il giovedì però questo nuovo non serve nessuno magari lo possiamo chiedere alla Georgia oh no lei fa le grandi schifose no io vi mando un bacione grande e al mio prossimo video ciao ciao